salve ragazzi oggi facciamo il vulcano abbiamo bisogno di pochissime cose due cucchiai di bicarbonato 5 6 gocce di detersivo per i piatti un po d'acqua mescoliamo un po adesso ci mettiamo del colorante alimentare se non ce l'avete potete mettere anche della tempera rossa ho deciso di aggiungerci un po di colla paillettes guardate com'è bella la lava del vulcano e aggiungo questo effetto con la carta argentata ho usato dei colori acridici una volta asciutto facciamo dall'altra parte faccio dei pezzettini di lava compatta eccoli qua qui la nostra lava è proprio bella dell'aceto bianco e non scordatevi degli occhiali da vista da sole insomma proteggiamo gli occhi non si sa mai se dovete farlo in casa potete far così in un vassoio e ricoprire di terra o di pietre naturalmente dentro un vassoio ma noi per fortuna possiamo andare fuori siamo pronti su un cartone ho disegnato una bella casetta un alberello e un pozzo adesso il momento tanto atteso aiuto l'esplosione spero che questo video vi sia piaciuto e a prestissimo per altre idee con Aroby a presto ciao 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 ciao